Sono convinto che per l'agricoltura sia molto importante perché è un settore che oltre ad un ruolo produttivo svolge una funzione etica di tutela dell'ambiente, di difesa della natura. Potersi orientare nel mercato, poter prendere delle decisioni relative allo sviluppo di nuovi prodotti, relative alla scelta di nuovi canali commerciali. Io mi reputo un testimone diretto dell'utilità dei dati quantitativi in agricoltura perché in passato mi hanno permesso proprio di cambiare l'indirizzo produttivo della mia azienda. Questa scelta l'ho fatta soprattutto per venire incontro alle nuove esigenze di mercato, soprattutto dei mercati all'ingresso, sia locali, qua siamo in Sardegna per la precisione, ma anche per i mercati del Nord Italia dove si concentra principalmente l'export dei miei prodotti. Il nostro settore, quello dell'agricoltura e dell'allevamento, stanno vivendo un momento di grande trasformazione dovuto soprattutto all'aiuto che la tecnologia ci sta dando in campo. E' proprio per questo che è fondamentale la raccolta dei dati. Tramite le informazioni che ognuno di noi può dare e la relativa elaborazione, siamo in grado di conoscere i vari andamenti del mercato, di conoscere in anteprima nuove tecnologie. Utilizziamo tecniche e metodologie di ascolto in rete per conoscere periodicamente quelle che sono le tendenze di consumo in tutta Europa dei nostri consumatori. E' importantissimo nel settore agrario confrontarsi con le altre aziende per programmare al meglio il lavoro presente e futuro, per confrontarsi nelle produzioni, nelle vari tipi di lavorazione e per migliorare sempre di più, mai dimenticando però quello che ci hanno insegnato i nostri vecchi.